Musica Conosciamo un elemento finalissimo, Roberta. Ciao Roberta, come fai in realtà? Io studio all'Università di Trieste, sono al terzo anno di comunità nazionale. Che sport pratici? Pratico ginnastica artistica da quando sono piccola e sto anche insegnando da programma. Vuoi fare un saluto? Saluto tutti i miei amici e soprattutto la mia famiglia. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.